iniziamo prendendoci per mano stasera non vedrete uno spettacolo convenzionale chiuda gli occhi ma vivrete un'esperienza fuori dal comune che cosa vede signore si sente bene come ci è riuscita dopo ieri sera mi è venuta un'idea io vorrei filmarlo potrei farvi diventare famosi a livello internazionale e questo è possibile solo con il cinema potremo annunciare che il ruolo sarà interpretato da una vera sensitiva sarà una grande pubblicità per il film davvero faremo un film è una grande opportunità abbiamo bisogno di soldi godiamo c'era finché dura da quando sei entrata nella mia vita io mi sento diverso non possiamo accontentarci di un'intuizione bisogna affrontare questi avvenimenti scientificamente e alla fine noi sapremo se qualcuno qui è disposto a rispondermi qui c'è uno spirito è uno spirito ferito ma parliamo di voi siete pronti siete pronti per la verità sarebbe straordinario Grazie a tutti.